A me mi piace perché è come nuova A me mi piace perché è ancora in garanzia totale Opel A me mi piace perché raggiunge i 230 km orari A me mi piace perché è unico proprietario A me mi piace perché è di colore giallo A me mi piace perché è un bel cabrio che fa girare la testa Insomma è una delle poche tedesche bionde che a me mi piace A me mi piace perché è un bel cabello A me mi piace perché è un bel cabello